Allora il nostro titolo è Danza, musica e teatro per educare i ragazzi a sognare e non è poco, è un grosso titolo che mi ha fatto meditare, pensare e sono partita proprio dalle parole di Papa Francesco, bellissime, che sono riportate anche in quei fogli numerosi che spiegano il tema di quest'anno che attraversa l'Italia, si può dire, perché il CIOFS Scuola proprio si occupa di tutte le scuole nostre come orientamento, come input anche sul quale riflettere. Mi piace moltissimo mettere questo sfondo di cielo pieno di stelle proprio perché Papa Francesco dice i sogni ti svegliano, ti portano in là, sono le stelle più luminose, quelle che indicano un cammino diverso per l'umanità. Perciò queste stelle sono nel cuore dei ragazzi, dei piccoli e dei più grandi in maniera più consapevole, sono la loro responsabilità e il loro tesoro. Stupendo! Fate che siano anche il vostro futuro. Questo è un augurio che possiamo rivolgere a tutti i ragazzi che sono nelle nostre scuole. Io penso anche ai bambini perché i bambini hanno una consapevolezza dell'immagine, della metafora diretta, immediata, perciò si sentono stelle, si sentono anche di brillare. Abbiamo avuto in consegna delle parole chiave, delle parole chiave che non sono solo per ricordare. Di solito le parole chiave sono per essere presenti nella memoria, ma queste parole chiave che abbiamo ricevuto, e sono cinque, generano dei percorsi. Intanto ascolto è parola e vedremo come nella danza la parola non è verbale, ma è gestuale, per cui l'ascolto è un ascolto di tutti i sensi e la parola è un'espressione, proprio un'espressione olistica, che a volte fa meno della parola, oppure utilizza la parola scritta, la parola grafica, la parola colorata, o la parola che è semplicemente uno sguardo. Bellissime questi due termini messi insieme. Ho cercato un'immagine che fosse proprio rappresentativa, che non c'è parola senza ascolto, e non c'è ascolto senza parola, per cui sono legate. Abbiamo la fortezza, e così quando cercavo una traduzione in inglese è stato molto chiaro che fortezza non è la forza. La forza è una forza che si esercita, una forza che si costruisce, costruisce sia nella muscolatura a livello fisico, sia nella forza di volontà. La fortezza è qualcosa di più grande. La fortezza è proprio quando Maria dice a Giovannino Bosco di nove anni renditi umile, forte e robusto. Il robusto è quello fisico, quello che endure, quello che sopporta fatiche e sacrifici, ma la fortezza è molto di più. La fortezza è legata alla volontà, la fortezza è legata al cuore, la fortezza è legata all'umore, a tantissime cose. Perciò terza parola chiave, quarta parola chiave, progetto di vita. Ecco questo sguardo e questo sorriso di una preadolescente parlano, e lo vediamo impresso in moltissimi dei nostri ragazzi e dei nostri bambini. Perciò un progetto di vita vuol dire il mio sogno diventerà realtà. Il mio sogno si declinerà giorno dopo giorno con le cose che imparo, con le cose che ascolto e diventerà realtà. Non avere un progetto di vita intristibile, lascia i ragazzi più chiusi e sofferenti. Perciò il progetto di vita è qualcosa che ci trascina, ci accompagna. E servizio. Il servizio che si declina in ogni età, in ogni modo. Qui abbiamo i bambini che si occupano di raccolta differenziata, di suddividere, di avere in classe i bidoncini che comportano un'attenzione grande anche all'ambiente, al riciclo. Perciò cinque parole che si possono utilizzare a due anni, tre anni, perché abbiamo anche la sezione primavera, e su su fino alla secondaria, di secondo grado, che non abbiamo, ma che è possibile, che abbiamo invece la bottega d'Europa. Cinque bellissime parole. E allora facciamone tesoro in quest'anno. Un anno che non è l'anno solare, ma è l'anno educativo scolastico. Nessuno come gli insegnanti si augura buon anno a settembre. Una cosa un po' strana, ma vera. Perciò come ne facciamo tesoro? Come utilizziamo questo regalo che ci ha fatto proprio l'attenzione educativa nazionale salesiana? Facciamolo coltivando nei bambini e nei ragazzi l'espressione. E questo è una missione. Sicuramente in tutte le nostre case salesiane, là dove c'è il Cioffs Scuola, c'è teatro, c'è spettacolo, c'è festa, c'è musica e c'è movimento e danza. Ecco, coltiviamo l'espressione che facilita il sognare. Ecco, dare qualcosa da fare, dare qualcosa che impegna a livello fisico, a livello di voce, a livello di totale comunicazione, come fa il teatro, è facilitare il sogno. Perché si crea la possibilità di farlo. Se ci si impegna in cose belle e ricche, come le tre che abbiamo nominato, musica, teatro e danza, allora il sognare è più facile. Un piccolo indice al nostro lavoro, ed era chiarissimo quest'indice, la danza, la musica e il teatro per educare i ragazzi a sognare, perciò tutte e tre coinvolte verso. Io, devo dire, umilmente e anche onestamente, che racconterò un'esperienza. E l'esperienza è duplice. In primo luogo è quella fatta alla bottega d'Europa da quasi 40 anni e quella fatta alla bottega dei giovani talenti ormai da sette anni. ma soprattutto anche l'esperienza, che è la seconda parte della mia esperienza, di studio e di ricerca in questi campi. Perciò mettiamo insieme teoria e prassi. E con grande sorpresa vi renderete conto, io mi sono resa conto, che questa prassi oggi si sposa con la più elevata delle ricerche, che è quella nelle neuroscienze cognitive. è incredibile trovare come pubblicazioni recenti, addirittura siti, si stanno occupando di musica e neuroscienze, di musica e neuroscienze cognitive, ovviamente, perché coinvolgono l'apprendimento, coinvolgono la didattica, coinvolgono l'educazione. perciò teatro e neuroscienze, danza e neuroscienze, musica e neuroscienze. Sono stata felicemente sorpresa e la conclusione di questa sorpresa è stata nell'acquisto dei libri e nella loro lettura. Entriamo nel vivo della danza, perciò la danza per educare i ragazzi a sognare. Chi non ama danzare o, chi è un po' più avanti in età, chi non ha amato danzare, muoversi. Immaginate che il primo movimento che accade nei bambini di mesi, già con la capacità di sollevare il capo, soprattutto di stare in piedi, ma anche ancora seduti, è quello che si attiva alla partenza di una melodia o di un ritmo. È incredibile. È automatico. Praticamente la musica si propone all'udito, perciò uno dei maggiori sensi che abbiamo, ma tutti sono ex equo, si propone e immediatamente ha una risposta fisica, cosa che non accade con la visione, che si abbina quasi con una grande O che si fa con la bocca per la sorpresa, muove dall'interno e la danza e la musica sono abbinate. Se è la musica che muove la danza, i piccolissimi, vuol dire che sono impastate. e immaginate quando danza, musica, parola hanno una storia da raccontare, ecco il teatro, perciò non ci poteva essere trio più fuso, trio più collegato di questo, perciò sono felicissima di parlarne. Tutto da cosa comincia? Comincia da una buona comunicazione, ma questa comunicazione ha un buon rapporto con il proprio corpo. Il bambino che ha conquistato uno schema corporeo graduale, certamente, a due anni è una cosa, tre, quattro, cinque, è il bambino sicuro di sé. Il bambino che acquisisce il linguaggio con più velocità, ecco un buon schema corporeo, perciò che cos'è il corpo? E' il mezzo accompagnato con l'esperienza motoria che ci fa pensare, incredibile, importantissimo, per cui abitare il proprio corpo ci fa entrare in contatto con noi stessi, un bellissimo contributo di Amodei e Troia a questo riguardo. Perciò il corpo cosa fa? Il corpo comunica, comunica quando è con gli altri, in una relazione interpersonale bella, solare, luminosa, altrimenti si chiude. Pensiamo alle sofferenze di un ragazzino che soffre di autismo o di altre patologie, per cui il corpo che si esprime, che comunica, che abbraccia, che si muove verso, è un corpo che è sicuro di sé. Non è il corpo che è sicuro di sé, ma è stato lo strumento affinché l'intera personalità vivesse sicura e gioiosa. Perciò il corpo si esprime con un linguaggio che è quello non verbale. Per cui, se non c'è schema corporeo acquisito, se non c'è un'immagine di sé stessi e la si esprime a volte con i piccoli, anche nel disegno sul pavimento, su un grande foglio di carta, su una carta da parati, si deve rendere conto anche con la manina che ripassa con il pennarello, con la matita, non c'è espressione. è fondamentale questo. Torno molto indietro nel tempo perché a volte riparare dei danni o delle fatiche nella secundaria di secondo grado, di primo grado o di primaria si deve tornare indietro nelle prime acquisizioni e sono felice di avere con noi la maestra Barbara che, sebbene in macchina accompagnando i suoi bambini, ascolta questo nel quale crede moltissimo. Perciò dobbiamo costruire, proporre già attività di psicomotorie certamente che partono dalla respirazione, dall'equilibrio, dall'espansione del corpo che è poi la danza. Una bella coordinazione si può fare con la ginnastica, si può fare con la danza, si può fare con l'espressione corporea che è felicissima come attività per sviluppare anche il pensiero e la parola. Ci sono grandi autori che ne hanno lavorato, in bibliografia abbiamo messo questi testi. Per cui noi come educatrici, noi come educatori che siamo impegnati con le varie età, dobbiamo camminare passo passo con i ragazzi alla conquista di questo possedere se stessi. Ecco, per potersi donare. Ricordiamo che parola viene dopo l'ascolto e allora relazione con gli altri, relazione con lo spazio, tutto quello che consiste è nella capacità di esprimersi. Io ho apprezzato molto che il titolo parta dal fatto di facilitare l'espressione. Adesso faccio una piccola parentesi che mi tocca sempre perché le tecnologie atrofizzano l'espressione. Per cui lavoriamo e lavoriamo molto per proporre, non per dire no tecnologia, ma per dire facciamo cose che possano essere terapeutiche nei confronti di un uso a volte smodato della tecnologia. È un must. Come si sta attenti all'ambiente, come ci si deve occupare della salvaguardia del creato è una salvaguardia oggi. La parentesi la chiudo altrimenti parlerei solo di questo. La danza che meraviglia, fa superare la paura, la timidezza, muovere il corpo di fronte agli altri, insieme agli altri, è già un impegno e i ragazzi, attenzione, amano muoversi, amano un tipo di musica che si ovviamente suona nelle discoteche a livelli di bassi notevoli perché la musica da discoteca ha una sua caratteristica per cui come si muovono è una musica che invita alla ripetizione dei gesti, che invita allo sballo che non è solo uno sballo purtroppo quando si consumano sostanze ma è uno sballo fisico tribale se vogliamo perciò attenti ad educare alla danza sappiamo che amano muoversi ma come? Ma con quale tipo di danza? Per cui portarli a credere che sono capaci di muoversi in maniera armoniosa di muoversi in gruppo è qui che si sviluppa l'espressione perciò nella danza c'è un piacere che è funzionale cioè ha una finalità ha un obiettivo e dire ecco sono capace ho un potere produttivo cioè produttivo con il mio movimento creo bellezza con la mia armonizzazione con gli altri cioè sincronizzazione dei gesti io creo spettacolo creo bellezza e qui abbiamo ciò che vi citavo all'inizio gli studi che trattano proprio il tema neuroscienze e danza di gruppo ecco perché non dico a contrasto ma a gusto diverso noi dobbiamo dare il gusto per le cose belle e le cose che maturano in questo senso dell'espressione e allora proporremo la danza coreografica nei nostri spettacoli o la danza coreografica così per mostrare come quando l'anno del Covid noi danzammo quella canzone africana Gerusalemma che andava per la maggiore e si è creato un clima una gioia tra i ragazzi abbiamo prodotto un video bellissimo con tutti i ragazzi in cortile a muoversi insieme con gli stessi movimenti qui abbiamo un bellissimo sito ve l'ho lasciato per cui questo nostro lavoro è pieno di minibili ma che bonno che staccia perciò questo sito ha una riflessione profonda sulla danza come la nuova ondata nelle neuroscienze cognitive contenuti non sono diciamo eccessivamente complessi ma sono molto interessanti ecco a scuola si praticano varie tipologie di danza perciò la danza educativa che si può fare in prima in seconda della primaria fino alla quinta la danza educativa inizia anche all'infanzia è una danza che intanto si abbina alla musica perciò avvicina molto alla musica ci si muove sulla musica fa attenzione alla coordinazione ma si presenta anche con poesie da danzare si presenta con canzoncine da mimare attraverso la danza per cui suscita creatività la danza educativa non è una danza sincrona tra tutti i soggetti che danzano è una danza che vede la libertà di ognuno nel muoversi ed è bellissima la seconda ancora più studiata più articolata è l'espressione corporea o corporale ci sono due traduzioni del francese expression corporelle perciò è dire senza usare il linguaggio parlato il linguaggio verbale ed è articolata è complessa è regalo di interiorizzazione dei testi o delle canzoni perciò intanto fisicamente bisogna fare dei movimenti anche articolati che assomigliano alla danza ma che sono più pacati che non vanno sulla musica poi fa soprattutto fare propri interiorizzare arricchirsi di contenuti testuali e questi contenuti vengono espressi con il corpo o con i gesti è bellissima ci sono due grandi autori francesi che hanno studiato l'espressione corporelle nella scuola a livello di infanzia di primaria e di secondaria insomma tutte le fasce di età fino alla classe terminal che sarebbe il nostro ultimo anno di maturità per cui autori che hanno dato moltissimo che hanno fatto anche un'applicazione alla catechesi in uno degli articoli che vi ho dato c'è una parte di un articolo che parla proprio di questo a servizio dei salmi ho fatto questa esperienza bellissima in altri contesti a servizio della lettura dei salmi scelti ovviamente l'espressione corporelle il gesto è spontaneo per cui lo stesso input che dà il docente o l'educatore viene espresso da ognuno come sente ci sono situazioni più strutturate situazioni meno strutturate la situazione strutturata è quella che vede proprio il corso di expression corporelle che vede l'insegnamento di liberazione dall'interno dei contenuti in comunicazione non è imitare gesti nell'espression corporelle nessuno può insegnare un gesto ma bisogna insegnare a suscitare il gesto e calma molto i ragazzi i bambini piccoli di placa un anno detti l'esempio della frutta che maturava al sole per cui che diventava sempre più rosa e più rossa per cui loro quasi quasi allargavano le braccine i piccoli si gonfiavano perché la frutta diventava piena di zucchero e si sentivano dolci questo per i piccini con i più grandi cose ancora più complesse come possono essere i salmi la danza coreografica in orario curricolare noi l'abbiamo e adesso parlo un po' dell'esperienza fatta in orario curricolare quello che è scienze motorie o corpo movimento e sport viene suddiviso in un'ora di danza coreografica e in un'ora di corpo movimento e sport vero e proprio con i movimenti i salti le corse il gioco anche tutto ciò che comporta e così anche da piccini possono imparare una danza coreografica legata a un tema qual è questo tema il tema è uno spettacolo perciò uno spettacolo da montare in questo caso Mary Poppins ma non sono i protagonisti della storia ai bambini sono il libro sono il libro perciò l'inchiostro nei pantaloni neri la maglietta che è la pagina e quel fiocchetto che hanno addosso è tutto scritto è una stoffa con la scrittura perciò loro sono il libro e rappresentano il libro muovendosi qui avevamo invece Cenerentola per cui i personaggi erano della storia per cui questo era il gran ballo come vedete ce ne sono due di Cenerentola proprio perché non è una storia messa in scena sono troppo piccoli e poi abbiamo i maschi con le loro coreografie e i bambini maschietti che cosa chiede questa coreografia guardarsi rendersi conto dell'altro perciò l'ascolto del gesto dell'altro la presa di coscienza che siamo un gruppo per cui altamente formativa movimenti tutti fatti sulla musica e resi certo con le prove quasi a perfezione qui abbiamo la fabbrica di cioccolato ecco gli umpa loop scusate gli umpa lumpa che abbiamo nella pagina i maschietti di verde con loro grembiolino avevano le scene e le bambine invece che fanno le coreografie a seconda della scena che si compone per cui gesti anche complessi però avendolo nell'orario curricolare non si rischia di dover affannarsi doversi affannare verso la fine dell'anno scolastico con le prove si fa in orario perciò le persone che si occupano di loro sono professionisti di questo lavoro e qui è importante mentre nell'infanzia che abbiamo professionisti anche con la musica ma la danza il movimento c'è la psicomotricista l'insegnante può giocare l'espression corporelli in classe qui ci sono professionisti delle coreografie e così andà procedendo qui invece il mago di odds perciò cose sempre siamo in una quarta cose più complesse qui Peter Pan e arriviamo con i personaggi che sanno contemporaneamente cantare danzare e poi dire le loro battute legate alla storia perciò la complessità cresce a seconda dell'età il lavoro si svolge durante l'anno la maturazione si vede dal mese di settembre al mese di maggio durante il quale c'è il festival di teatro si coglie o la danza classica extra orario non c'è età d'inizio anche piccini anche bambini maschietti assolutamente e bambine che poi si mostrano negli eventi felici una cosa importante da noi è poi lavorare piccoli e grandi proprio perché la bottega è i mastri cioè coloro che sanno bene qualcosa o la sanno meglio si avvicinano ai novizi o agli apprendisti e aiutano nella crescita perciò la danza che si declina con una storia certamente perché danzare senza una musica e una storia è difficile danza moderna danza classica qui avevamo i quattro elementi perciò progetto di vita la natura il creato il rispetto e così via mentre loro imparavano i movimenti si faceva in parallelo anche un'istruzione legata al contenuto perciò si danzano situazioni andiamo a vedere grandi balletti andiamo allo schiaccianoci andiamo a Giselle andiamo a tutti i grandi balletti a Don Quixote sono tutte storie per cui è la storia che attraverso la sua trama poi invita a muoversi in maniera diversa con gruppi diversi nel rendere ecco le età diverse come dicevo questo era un saggio di fine anno ma legato alla presenza dei piccini che stanno seduti a guardare cosa fanno gli altri questa è un'educazione di progetto di vita io voglio diventare così io quando sarò grande se non si vedono i grandi accanto a noi non si riesce a idealizzare se stessi in un futuro ecco qua il fuoco abbiamo sempre questo cinesino che in tutti i balletti si è presente bravissimo snello e anche non solo i piccini ma gli adulti insegnanti che danzano con loro e questo è importante voglio arrivare ad essere così perciò l'espressione coltivata attraverso la danza sfocia poi meravigliosamente nella pazienza nel ripetere i movimenti nella sopportazione della fatica immaginate che gli esercizi per acquisire una scioltezza nella danza non sono semplici però vedo già dove posso arrivare e poi la pubblicità che è l'anima di tutto come ben sapete una scuola dal nord al sud dell'Italia che si presenta dicendo ai genitori noi insegniamo anche questo ma non perché trascuriamo il resto infatti la nostra scuola inizia al mattino e finisce alle 16.30 tutta la settimana non ci sono rientri è tutta curricolare ebbene una scuola così deve far capire che sviluppare capacità di musica canto danza è un regalo che possiamo fare ai ragazzi che ci vivono accanto per cui l'espressione che noi alleviamo l'espressione in loro è un dono per il futuro non dico per fare questo lavoro assolutamente ma è un dono per esporlo a tutto a tutto alla quotidianità alla vita perciò quale il sogno questo è il compito che lascia ciascuno in riferimento all'ascolto alla parola alla fortezza al progetto di vita e al servizio ecco ci si può riflettere lo faremo anche nella nostra scuola continueremo respiriamo profondo perché l'attenzione dura 20 minuti e noi siamo stati già egregiamente impegnati la musica certo non dettaglierò ogni cosa di quelle che ho proposto ma l'educazione musicale precoce anche questa è dall'infanzia alla primaria e poi va avanti ma prima si inizia e più efficace è l'effetto di ciò che propongo perciò si comincia certamente con il ritmo perché la caratteristica più forte per i piccoli è il ritmo i legnetti le campanelline tutto ciò ho visto anche i bambini della primavera un canto natalizio avendo i campanellini in mano quanto hanno acquisito il ritmo e andavano d'accordo per cui dal punto di vista psicopedagogico la musica attiva l'attenzione attiva la concentrazione e certamente motiva l'espressione l'abbiamo detto qualche minuto fa quando i nostri bambini della scuola dell'infanzia e qui la maestra Barbara mi dà conferma già da piccolissimi fanno l'acquerello e lo usiamo molto come mezzo espressivo loro sono in silenzio e ascoltano musica classica i pezzi li riconoscono perché li usiamo spesso e con questo ascolto se devono chiedere una cosa bisbigliano ma non lo facciamo solo per pace per calma o perché una cosa bella lo facciamo perché attiva l'attenzione e la concentrazione di per sé come dono la musica a questo fa socializzare quando ascoltiamo musica insieme stiamo bene nelle feste si mette la musica anche nelle situazioni sociali la musica è presente ma dà anche sicurezza la musica ci fa vivere meglio nel quotidiano quante volte abbiamo un lavoro impegnativo da fare mettiamo la nostra musica preferita e lo svolgiamo fare musica è un'altra delle esperienze la musica come la danza può essere fruita cioè vista cioè attraverso una partecipazione solo di spettacolo oppure fatta messa in atto come il teatro del resto per cui stare in gruppo si arricchisce dalla presenza della musica stimola anche la creatività ci mette diciamo ci chiede di prenderci le nostre responsabilità quando facciamo parte di un'orchestrina e quest'anno alla BGT è nata proprio l'orchestra giovanile con delle tastiere piccoline non quelle professionali ma per iniziare a fare qualcosa insieme responsabilità è quelle note toccano a me quell'accordo tocca a me lo devo suonare con gli altri per cui io acquisisco fortezza che è attenzione all'altro e al tempo stesso ripetizione ecco supero anche l'individualismo e i miei limiti e così via la musica attenzione qui arriviamo al sogno che ho scritto maiuscolo la musica proprio perché fatta di ritmo in primis di timbro a seconda degli strumenti usati di melodia a seconda della vena di composizione di chi ha fatto quel pezzo e di armonia quanti accordi quali accordi arricchiscono quella notina che va su o va giù crea emozioni perciò a livello fantastico da risonanze profonde una bella attività che si fa nella scuola primaria è disegnare ciò che la musica ha detto bellissimo lo si può fare anche con i più piccoli ma nella primaria ha la sua fioritura migliore e allora a livello fantastico il sogno da cosa nasce l'interesse per la musica proprio perché cantare insieme è bellissimo fare musica insieme è bellissimo certo il docente deve essere di alto profilo non si può fare musica con la chiavetta che si mette dentro la lim non si può fare musica con cose già registrate bisogna fare musica il più possibile dal vero dal vivo e allora c'è un impegno economico certo ma una scuola che si presenta con l'insegnante di musica che è una pianista che fa cantare ai bambini gli accordi che gli fa battere le manine a seconda del suo andare veloce o più lento e la stessa cosa nella scuola primaria dove ogni classe ha il proprio pianoforte in classe e ovviamente la propria tastiera non si parliamo di mezze code o altro e sono valori in più che le famiglie apprezzano e soprattutto che fanno crescere meglio perciò dal punto di vista fisiologico fa tantissimo dal punto di vista psicologico tanto e dal punto di vista del subconscio anche molto tutto quello che scrivo qua non è come si dice un risultato della mia creatività è attinto a testi scientifici per cui dal punto di vista fisiologico cambia il ritmo cardiaco e la respirazione pressione arteriosa digestione e sistema muscolare direte ma come fa non abbiamo il tempo di approfondirlo poi se si fa un elettroencefalogramma si vede che quando il pezzo musicale passa dal pianissimo al fortissimo o da un solo a un tutti gli strumenti a tutta l'orchestra con i piatti con i tamburi con tutto le onde alfa che sono le onde del cervello che precedono il riposo le onde del cervello della calma si desincronizzano cioè avviene qualcosa che ci scuote a livello fisico ecco perché la musica piace questa spiegazione si trova appunto nei testi che ho citato psicologicamente la musica ha accesso all'inconscio per cui ci tocca ci scuote in zone che noi abbiamo anche zone in periodi della nostra vita che possiamo aver dimenticato perciò ci crea liberazione e poi anche tocca l'io perché è l'io che domina le emozioni ecco perché certe musiche i ragazzi le sentono una dieci cento volte e continuano a sentirle parlo dei preadolescenti e degli adolescenti fate questa piccola ricerca chiedete ai vostri studenti citami le tue musiche preferite scrivile e vedrete che panorama di conoscenza vi si prospetta perché dai loro gusti musicali voi potete risalire certo con l'accompagnamento di qualcuno che ne ha fatto uno studio potete risalire a come sono alla loro personalità lo si fa anche per scoprire le intelligenze di Gardner le intelligenze multiple il bambino nasce già musico perciò in ogni momento la manifesta lo abbiamo detto fare musica è gratificante cantare è gratificante tutto si può imparare attraverso la musica qui vi ho dato un po' di esempi ma non ve li faccio sentire perché Zoom ancora non ha fatto progressi Zoom ci spezza l'audio e ce lo fa sentire a singhiozzo e non voglio per cui pronuncia fluida pronuncia corretta quante volte l'articolazione di parole è faticosa e ai primi anni della primaria e a volte si portano avanti anche nella secondaria di primo grado dei difetti di pronuncia ebbene il canto li facilita nella loro nel loro perfezionamento per cui accenti gruppi fonetici ma soprattutto approfondire il testo musicale scegliete i canti che amano molto un mio studente all'università ha fatto una bellissima tesi su rock e questa tesi appunto si proponeva di formare attraverso la scelta dei canti Mauro Gallo si chiamava penso l'abbiamo anche pubblicata ebbene questo lavoro vi ha permesso di capire che il testo che scelgono le parole che vengono non parliamo dei canti di oggi perché lì è tutto un altro capitolo molto interessante anch'esso per cui parole chiave della canzone mimo gestualità tutto questo se il ragazzo la primaria anche narra canta ci sono dei canti bellissimi sull'ambiente che anche su Rai Play si trovano per cui abbiamo tanto materiale che aiuta a memorizzare concetti attraverso la musica perciò qui c'è tutta una piccola serie che ho fatto di suggerimenti ma li passo veloce perché noi abbiamo i nostri tempi e questa serie è legata a limitare l'albero perciò i bambini sono l'albero che respira pianta le radici e poi cerca il diaframma per cui la parte centrale e poi l'albero alto fa inspira ed espira contando e questo è importante poi ride proprio perché gli uccellini e gli animaletti lo fanno solletico l'albero canta a bocca chiusa si dice in inglese che sarebbe cantare a bocca chiusa e se andiamo a scomodare niente meno che l'om quanto questo canto di centinaia e se non migliaia di anni riesce a placare a calmare per cui il canto a bocca chiusa poi le vocali i vocalizzi a e i o u mentre si muovono le braccia ecco questi li possiamo trovare per chi è interessato e qui abbiamo le canzoni io ne ho fatto una didattica della lingua inglese proprio attraverso le canzoni adeguate ai campi semantici da imparare con il mimo era subito fatto perciò si cantava non è che si ingannassero i piccoli perciò attraverso il canto si imparava davvero scusate ecco scusate ho detto che non le questo è un canto d'amore di un altro spettacolo bellissimo alla bella e la bestia quarta e quinta già i canti d'amore hanno un senso per loro ma capendo le parole dicendole si riflette su questo poi questo stupendo secondaria di secondo grado niente meno se si mettesse in scena la storia dei miserabili di Victor Hugo che è un musical stupendo avremmo questo bellissimo canto di Eponine che ha bruciato la sua vita e dice pensavo che l'amore durasse sempre eccetera eccetera pensate quanto lavoro con i ragazzi musical musical biblico Giuseppe Giuseppe venduto dai fratelli stupendo grande compositore Andrew Lloyd Webber e la storia si chiama La meravigliosa tunica in technicolor di Giuseppe bellissimo parole stupende sul sogno per cui se dobbiamo ispirarci al sogno mettiamo in scena questo è bellissimo è tradotto anche in italiano in moltissime lingue e altri canti ho fatto un'esperienza stupenda con questo canto di non molti anni fa irlandese di origine quando io mi sento giù e la mia anima è proprio amareggiata quando arrivano i turbamenti e il mio cuore è pesante allora sto fermo e qui nel silenzio e qui nel silenzio finché tu vieni e ti siedi accanto a me cioè questo questo tu è Gesù perciò tu mi sollevi posso stare sulle montagne tu mi sollevi posso camminare su mari tempestosi e sono forte sono forte quando sono sulle tue spalle mi porti su per essere più di ciò che sono bellissimo io dicevo ma hanno parole un po' complesse invece dalla prima della primaria sono state amate cantate dal nostro piccolo coro in maniera straordinaria perciò poi canti i gospel quanta formazione religiosa c'è e siamo già al terzo livello della nostra pastorale il primo è l'accoglienza io ho studiato prima è l'accoglienza il primo è lo spirito di famiglia sistema preventivo poi abbiamo la fede che trasuda dalle discipline e si mette in parallelo e finalmente l'educazione alla fede attraverso la musica possiamo andare lontanissimi senza essere magari un po' più pesanti diciamo la verità con tante parole eccole ecco cosa non c'è di tanti ho seguito un dottorato di un sudamericano sacerdote che era proprio la musica sacra la musica sacra veicolo di fede bellissimo e qui mi sono divertita a cercare amazing grace grazia strepitosa la grazia di dio cantata da Céline Dion da Diana Ross dal gospel poi in rap in hip hop in techno immaginate perciò quelle parole declinate con le passioni musicali di oggi interessantissimo vi ho messo i link se avete tempo ecco la musica fruita abbiamo fatto delle iniziative in passato e in presente alla bottega dei giovani talenti con veri musicisti che suonavano dal vivo per cui quest'anno poi è stata strepitosa il professor greco lo può dire anche la professoressa Franchini chi è stato presente secondaria quarta e quinta e terza le due terze e le due quarte ecco sono stati presi da una musica dal vivo con la conseguenza poi che abbiamo nel post scuola ventuna luni che fanno pianoforte hanno scelto e poi violino altri programmi seri e debussy e Rachmaninoff eccetera eccetera la musica suonata è coloro che imparano e sono felici orgogliosi maestri di alto profilo ricordiamo il metodo della bottega accanto ai novizi accanto agli apprendisti maestri di alto profilo per cui ogni canto ogni canzone tanto religioso ogni canzone anche di oggi adeguatamente scelta attenzione che il tema della scelta è importantissimo può essere veicolo di formazione e di educazione al sogno bisogna fare qualcosa certo approfondiamo il testo e dialoghiamo sul testo le risonanze si parlava di espressione bellissimo questo programma per cui mi esprimo dopo che ho ascoltato le buone prassi sono certo scegliere bene i testi testi moderni e testi antichi al concerto di primavera i piccini hanno cantato un canto in inglese medievale sulla natura bellissimo un canto diciamo senza suoni un canto a cappella ma con un canone stupendo perciò tutto va scelto con sapienza e qui abbiamo questa immagine mi piace molto avete pazienza non orgogliosa abbiamo nella parte centrale abbiamo terze quarte quinte e nella parte in basso abbiamo prime e seconde e poi il piccolo coro qua e là ecco questo era il concerto di natale duemilaventidue al teatro orione perciò un grandissimo teatro perché eravamo molti un compostezza scelta hanno cantato in italiano francese inglese tedesco e spagnolo perché proprio perché fanno queste quattro lingue a scuola perciò si sono espressi con una gioia incredibile questo è il piccolo coro di primavera in cappella in noviziato lì in viapia e hanno cantato in latino frateleo hanno cantato in francese in spagnolo in italiano e all'interno abbiamo anche dei bambini con problemi di autismo ecco per dirvi quanto voci bellissime uno in particolare altri iperattività altri due per cui il canto placa trascina coinvolge vi direte così carini con i vestitini sì l'eleganza fa parte della bellezza e sapete che la bellezza salverà il mondo perciò siamo compito a casa io non mi affatico entriamo nel teatro i tempi sono circostritti però diciamo le cose essenziali il teatro motiva il teatro è ricchissimo di codici verbali e non verbali il teatro ci fa immergere in una storia profonda e bella ricordiamo i miserabili ricordiamo anche le fiabe c'è lavoro di gruppo e socializzazione fa sognare è arte gioco e magia è svago è festa è ascolto parola fortezza progetto di vita e servizio generoso attenzione dico ai ragazzi siate generosi perché la battuta la dovete dire in maniera tale che venga assaporata da chi l'ascolta non posso dire una battuta e buttarla via e allora ci vuole generosità vincere la timidezza e così via tutte queste cose le sappiamo le sappiamo tutti tanti tipi di teatro il teatro di narrazione che viene da un libro basta cambiare le voci basta muoversi in un certo modo il teatro kamishibai che abbiamo usato il primo anno alla VGT che piace moltissimo ai bambini il kamishibai è un teatro giapponese e l'editrice salesiana in Germania ha fatto dei bellissimi materiali per cui la Don Bosco Ferlag casa nostra trovate anche su Amazon potete acquistare il teatrino e le illustrazioni molto belle il teatro delle ombre che è bellissimo e si può fare con niente i ragazzi fanno il copione i ragazzi si disegnano e ritagliano il teatro dei murattini straordinario con i piccoli e con i più grandi il teatro danza questo secondaria di secondo grado andrebbe a nozze come si dice a Roma perché il teatro danza è un tema sociale una situazione sociale che viene messa in scena con senso critico ma anche solo il quotidiano se voi conoscete Pina Bausch è uscito un bellissimo documentario su di lei lei è con lei che ha inventato il Tanztheater per cui ci si muove con movimenti che raccontano che narra ecco c'è un articolo tra quelli che vi ho mandato breve su questo argomento però per la secondaria se li coinvolgete con questo è la fine proprio poi il teatro Tukur perciò ha un valore didattico grande è un gioco serio far raccontare anche se stessi quando quando fate inventare le scene quando fate inventare un copione perciò la finzione scenica fa tantissimo ci si proietta c'è addirittura il sociodramma con Moreno altri studiosi di psicologia per cui il teatro tira fuori abbiamo una bimbetta timidissima in prima media B ebbene lei quando fa teatro è un'altra persona per cui è importante tutto c'è a teatro silenzio rumore gesto parola tutto per cui è espressione totale e ci si presenta con sorpresa a volte del regista di chi è insegnante regista poi si impara molto perché si imparano cose materiali la scenografia e le dipingere e cercare i costumi e cercare le parti più adeguate c'è tantissimo mi sembra di stropicciare questo argomento così bello ma forse il mio entusiasmo vi fa capire quanto è importante perciò tutti contribuiscono alla riuscita non vince colui che è più bravo vince l'insieme questo senso di insieme è molto importante per cui per l'espressione è il top ecco queste cose le lascio tutte perché le potete rileggere tutti i codici non verbali cinesica movimento gli aspetti prosodici della voce la voce che cambia a seconda di quello che dice gli aspetti prosodici sono i colori che noi mettiamo nella voce in inglese sono fortissimi perché è una lingua particolare su questo anche se l'italiano è musicale l'inglese è molto più musicale dell'italiano perciò il linguaggio iconico il linguaggio musicale è la situazione migliore per sognare lì vedete che ho scritto parecchio su questo argomento perché fare teatro migliora la comunicazione e l'espressione a tutti i livelli con i piccoli fra piccoli con i grandi e con piccoli e grandi insieme molti spettacoli di quelli che mettiamo in scena hanno le varie età all'interno il teatro musicale è il top è il massimo perché? perché mette all'interno tanto mimica facciale gestualità prossemica che sarebbe la vicinanza e la distanza sono tutti capitoli di libri di linguistica questi ma noi comunichiamo così siamo incredibili a volte con un'alzata di mento giudichiamo una persona non dico gli sguardi poi ci parlano bene di una di un'insegnante di una collega noi diciamo basta abbiamo demolita con quel suono della voce per cui scenografia costumi oggettistica bellissimo tutto questo c'è nel teatro perciò si canta e è necessario imparare i canti si fanno le scenografie che sono uno spasso per piccoli e grandi costumi movimenti di danza copione regia sei cose tutte altrettanto importanti questo fa parte di un software che ho creato nel 1996 al quale sono molto affezionata e così lo presento guardate la mimica questo ragazzino che voi vedete io gli dicevo felice triste bello brutto è giusto è sbagliato sorridi piangi ecco nove anni anzi non li aveva ancora compiuti e poi era il leone il leone del mago di Oz leone codardo ma poi alla fine il leone che salva Dorothy e lo spaventa passeri e l'omino di latta eccoli qua teatro vero e proprio questo è Oliver Twist perciò c'era tutto uno squadrone di ragazzi questo è canto di Natale lo spirito del Natale questo è il mago di Oz perciò i costumi le scene Peter Pan dove la fantasia ci trasporta certamente dobbiamo lavorare con quello che abbiamo creatività dobbiamo lavorare con quello che tutti trovano e portano collaborazione e una scuola a tutti gli effetti questo Oliver Twist una scenografia questa ovviamente si vede fatta con un architetto ma non è che dobbiamo arrivare a cose così complesse per cui i ragazzini salivano su questa scala che era sicurissima e passavano sul ballatoio quelli erano i ragazzi che Fegen l'usuraio introduce al furto e così via poi i dettagli i props che sono gli oggetti certamente se dovevano aprire un giornale doveva essere un giornale antico per cui prendi da internet e viva internet quando è usato bene per tutto e così via teatro musicale bisogna ballare bisogna cantare e bisogna recitare vado benissimo col tempo perciò il percorso più adeguato per farci acquisire competenza espressiva almeno per dieci ragioni ma non le ho scritte stanno altrove perciò ci può essere un software abbiamo lavorato anche sui software che mediano l'apprendimento del teatro delle battute dell'intonazione eccetera questo un bellissimo Alice del Paese delle Veraviglie ecco Neuroscienze Cognitive si stanno scomodando 2016 questo libro lo abbiamo esplorare le neuroscienze del teatro guardate cosa hanno fatto e questo è troppo bello hanno fatto indossare un spettroscopio che ha misurato il senso di sé e il coordinamento interpersonale di attori professionisti e tutte le conseguenze declinate per l'educazione erano dentro e questo sito è molto bello Spadaro e Pellegri lo tengono proprio sul teatro e le neuroscienze chi non sa cosa fare la sera ha qualcosa da fare perciò possiamo dar vita a un lungo dialogo sul teatro in rete cioè possiamo fare una cosa un luogo di dialogo io l'ho cominciato se voi mi incoraggiate so Mariella è qua e se mi incoraggia questo piccolo blog intitolato Polo Teatrale Salesiano è una bella cosa abbiamo messo qua e là delle riflessioni sul teatro è curato dalla Bottega d'Europa e dalla casa editrice piccolina la Multidea perciò sarebbe bello sempre come piccolo coronamento di questo lavoro così bello sull'espressione preparare un blog appositamente studiato per avere tutte le voci anche quelle degli altri redatori potrebbe essere una cosa bellissima e riflettere sull'espressione e sull'educazione e l'espressione nei ragazzi affinché siano capaci di sognare perché questo è il nostro obiettivo perciò il mio grazie è intanto perché sono stata brava a me stessa nel lavorare online perché io adoro essere presente mi piace esserci e mi piace portare cose materiali far sentire musica far vedere video e così via il grazie è al CHOFS scuola che ha fatto partire questa bellissima iniziativa un'iniziativa che è modernissima e vi faccio un'anticipazione il 7 dicembre avremo la visita nella nostra scuola dei 30 membri del consiglio delle scuole cattoliche nel mondo e cosa vogliono? Sì sentire una piccola spiegazione ma soprattutto vedere i ragazzi cantare muoversi muovere i passi di danza e recitare perché? perché hanno detto il futuro ci deve portare qua un futuro prossimo vicinissimo a noi perché? proprio perché sono ragazzi intrappolati dalla tecnologia loro hanno visto diciamo 30 persone da tutto il mondo immaginate che visione ampia possono avere con la scuola cattolica da sempre riflettuto su questi temi perciò io dico mettendolo in azione un progetto così grande e il CIOFS scuola ha fatto un lavoro davvero degno di prosecuzione dobbiamo continuare a scavare ad interessarci e siamo alla bibliografia questo libro ho messo in grande il libro che è il libro più importante come si dice in inglese a must have bisogna averlo perciò la danza educativa e poi questi sono crescere danzando laboratori di danza la danza come educazione certamente lo spigolati fra molti altri e gesto musica e danza e così via poi musica educativa ci sono testi di musica all'infinito ecco per cui tutte le scuole adesso è uscita di moda la body percussion che piace moltissimo ai ragazzi soprattutto prima e seconda e terza media abbiamo un progetto col maestro Gullì di musica su questo e poi il teatro che è una pratica proprio totalmente educativa giochi teatro educativo ed emozioni teatro in gioco e manuale anche che insegna a fare cose il teatro olistico è molto di moda oggi perché il teatro olistico prende la persona con tutte le sue capacità espressive non è la classica che odio come parola recita la recita non me la fate sentire come parola perché tutt'altra cosa il teatro il teatro è serio è professionale perciò educare col teatro molto ci hanno lavorato autori francesi loro hanno un pochino forte nella loro diciamo cultura il teatro però più forte ancora ce l'hanno i britannici perché hanno la materia teatro come alla BGT c'è la materia teatro in inglese è proprio una disciplina ha la sua bella ora settimanale poi le sue prove e così via per cui esercizi teatro in educazione anche questo teatro come metodo educativo attenzione a chi dobbiamo risalire adesso al nostro caro fondatore padre San Giovanni Bosco che preso da fatica o da sofferenza perché non riuscivano i suoi ragazzotti a capire il sistema metrico decimale dice sai che faccio mo gli faccio uno spettacolo e così ha creato lo spettacolo proprio per dare la possibilità ai ragazzi di immagazzinare cioè di assimilare meglio tutto ciò che concerneva il sistema metrico decimale attraverso il copione tutto si può imparare con uno spettacolo immaginate come imparano i nomi dei personaggi dei Pokémon i ragazzi a memoria ma sono nomi che non si sono mai sentiti e come mai non sanno i nomi di storia o di altri perché vanno agite le cose vanno fatte ecco la forza del fare come diceva John Austin parlare e fare con le voci ecco perciò questi sono anche molto belli questo costruttore di sogni è un'antologia una bellissima antologia che ha poesie da minare da drammatizzare che ha all'interno copioncini che ha testi belli per la secondaria di secondo grado perciò ho messo cose che possono essere utili per varie età poi auspico e con questo concludo auspico l'ho detto all'epoca madre Vilma che era l'economa di istituire un corso vero e proprio di teatro teatro musicale ogni luogo in Italia fa bene teatro e lo sa fare ma fare un corso di formazione sarebbe una un'idea bella piacevole per chi lo fa perché parteciperebbe in qualità di attore che poi diventa regista e finalmente avrebbe anche l'opportunità a livello professionale di rientrare nel diciamo nel settore che è la regia teatrale che è molto bello e che si può distribuire in ogni classe voglio rifinire perché ho un quarto di minuto con le parole di Papa Francesco e noi ci dobbiamo svegliare perché i sogni ti svegliano siamo i primi a essere chiamati in causa non sono solo i ragazzi se non ci svegliamo noi non svegliamo gli altri ti portano in là sono le stelle più luminose quelle che indicano un cammino diverso per l'umanità ma tutti i ragazzi che saranno l'umanità di domani che abbiamo nelle nostre scuole immaginate immaginate i ragazzi delle scuole cattoliche sono 98 milioni ecco voi avete nel cuore queste stelle brillanti sono sicura lo vedo che sono i vostri sogni sono la vostra responsabilità il vostro tesoro fate che siano anche il vostro futuro e il futuro dei vostri ragazzi e siamo perfettamente nei tempi vi ringrazio e sono vostra affezionatissima ecco torniamo alla mia vediamo adesso perché non sono padrona assoluta di questo schermo vediamo di poter tornare devo andare ai 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 va bene basta che io apra qua no qui ho chiuso mi togli la parola no la parola la la sorbariella così posso ritornare ad esserci ecco penso che ci sono ancora sì sì ecco va bene grazie siamo stati così abbiamo sono felice di aver avuto questa richiesta siamo felici anche noi grazie dell'intervento sor a sor Caterina e prima di dividirci nelle stanze se c'è qualche domanda che vogliamo rivolgere a sor Caterina qualche delucidazione io intanto vi ho messo in chat e alcuni file vi ho messo la sintesi dell'incontro di oggi e la traccia in word che sor Caterina ha preparato per tutti i partecipanti di oggi e poi quattro articoli che lei ha scritto su quattro espressioni diverse che possiamo scaricarci come materiale da poter leggere e approfondire le varie dimensioni ecco se qualcuno ha qualche domanda per sor Caterina poi eventualmente ci dividiamo nelle stanze io non ho una domanda ho un ringraziamento sor Caterina perché quello che ci hai offerto è veramente molto stimolante molto motivante i sogni che tu stai portando nel cuore che ci hai anche così espresso credo che incontrino un po' i nostri desideri mettere insieme prima imparare dalla strada che tu hai aperto che comunque hai sempre coltivato quella del teatro della danza beh direi quasi imparare rubarti un po' di segretini che tu oggi ci hai un po' messo lì e che ci hai stutticato tantissimo per cui credo che sarà utile che magari non so come ma ci dobbiamo pensare senza lasciare passare troppo tempo proprio per poterci così per poter attingere alla tua esperienza e poi così se tu sarai disponibile se vorrai se potrai non lo so che cosa però non tanti verdi troppo futuribili mi piacerebbe proprio che potessimo dare delle indicazioni ai nostri insegnanti per fare del teatro della danza del canto della musica quella qualche cosa che fa la differenza che dice cura della persona che dice che mette insieme tante già espressioni che facciamo ma che comunque dà un lievito un'anima veramente bella io ti ringrazio tantissimo ti ho ascoltato con un po' di invidia se devo essere sincera perché realmente stai mettendo in atto una scuola che veramente ha entusiasmo grazie Sola Caterina grazie grazie di cuore di queste parole che danno coraggio e forza Caterina avvia il video la tua webcam non mi avete vista ti vediamo statica no 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 eccomi ecco va bene ecco dicevo grazie di cuore davvero grazie di queste parole che danno coraggio energia e così poi se si può sentire vedere quello che fanno i bambini e ragazzi è diverso dal solo leggere delle parole ma sono entusiasti e bravi e sognano davvero questo è importante come noi del resto grazie a tutti Grazie a tutti.